Ciao, oggi cambiamo angolazione, dai. Allora, 21 ottobre 2024, siamo qui su questo canale. Al di là del canale, al di là di tutto, c'è questo challenge che ho iniziato il primo di gennaio e lo portiamo a termine. Ogni tanto si ha voglia di mollare, ma è proprio lì che dobbiamo continuare perché stiamo raggiungendo sicuramente il nostro obiettivo. Dunque, quando hai la tentazione di lasciare andare un progetto, è bene proprio lì che lo stai raggiungendo. Facile quando siamo motivati, quando tutto va bene, quando vediamo il bicchiere mezzo pieno invece di mezzo vuoto, come diceva un amico, anche se io preferisco vederlo sempre pieno. Mi sono stufato dei bicchieri mezzi vuoti, no, mezzi pieni e dei bicchieri vuoti. Vediamo le cose in un altro modo, facciamo quel passo, quel salto avanti e vediamo il bicchiere sempre pieno. Bisogna cambiare anche questo, basta limitarsi, basta vivere con delle credenze limitanti. Allora, questa sera sono qui, da qualche parte la voglia di fare un video non c'era più di tanto. La giornata è stata lunga sicuramente, ma ricordo che per alcuni le giornate sono molto più lunghe delle nostre e per alcuni le giornate terminano troppo in fretta. E questo è il modus operandi, il modus vivendi di tante persone nel mondo. E allora, se ti lamenti, se qualcosa ti pesa nella vita, ricorda la gratitudine per essere in vita, per essere qua anche oggi, perché è una cosa che diamo per scontato, ma che non lo è. Perché essere qua è la tua vittoria, la prima delle vittorie, di tante vittorie che compongono la tua giornata. Hai capito? Perché ci sei, perché ti sei alzato, perché non ti sei messo a dormire tutto il giorno, perché hai socializzato, perché hai fatto qualcosa di bene, di buono per te, per qualcun d'altro, perché hai visto un tramonto, perché hai visto quello scogliattolo nel bosco, perché hai capito qualcosa di nuovo, hai visto qualcosa di nuovo per le strade della tua città, perché hai lasciato perdere situazioni che non sono importanti. Non è importante vedere sempre i problemi che ci sono nel mondo, non è importante... Ci sono tante cose che non sono importanti, ma che ci sembrano importanti. Mentre la cosa più importante, che è vivere, la tralasciamo e non ne siamo grati. Allora sorridi anche oggi e fregatene. Lascia che sia stato quello che è stato, lascia che venga quello che avverrà. Tu sai dove stai andando, anche se non lo sai. Da qualche parte lo sai. Un abbraccio, un aug. Buona serata a te. Se ti è piaciuto il video, condividilo. Su qualche social, metti mi piace al video e... Denis, che mi hai fatto una domanda, ti risponderò in un video al momento giusto, come sempre. Un abbraccio anche a te. Ciao.